Un buon esempio di un connubio importante tra grandi imprese che fanno la ricchezza del territorio e una società come Estra che si mette a disposizione. In questo caso abbiamo contribuito all'ambiente e a dare efficienza a un'azienda recuperando l'investimento che facciamo nel risparmio energetico. Ecco cosa rappresenta l'intervento di Estraclima nello stabilimento dell'Acqua Verna all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi acquisito dal gruppo Maniva ormai dieci anni fa. Abbiamo deciso di intervenire sia per quanto riguarda la generazione del calore sia per quanto riguarda la trasformazione dell'energia in ingresso da olio combustibile a metano e poi siamo andati a ottimizzare anche tutto un recupero di calore nel processo produttivo e quindi con il recupero delle condense abbiamo ottimizzato sia il lavaggio delle casse che l'asciugatura delle bottiglie. Il progetto ha prodotto risultati economici e ambientali importanti e la metodologia di Estraclima è stata trasparente. Estraclima è un'aesco per cui oltre a eseguire gli interventi li finanzia anche e l'azienda con il risparmio che ottiene dall'intervento riesce a ripagare l'intervento fatto e in questo caso in otto anni. L'impianto avrà con questo intervento una riduzione di PM10, di emissioni di PM10 del 98%, ma anche a nitrite carbonica c'è una riduzione, anche questa abbastanza importante, perché siamo dell'ordine del 43%. Un settore strategico dunque per il gruppo Estrac è ancora può essere sviluppato. Un esempio commerciale sensibile perché Estraclima del gruppo Estra si vuole sviluppare e vuole sempre più offrirsi ad aziende che hanno questo tipo di necessità, che cercano risparmio, innovazione e anche protezione dell'ambiente.